Ciao a tutti, sono Domenico Pietrolino, altre sei citazioni latine che non potete non sapere. So che siete in tanti che mi seguite, che quest'anno avete la maturità, quindi imparatele, ho già fatto un video, faccio questo, ne farò un altro, imparatele un po', ne sparate una, due così, agli orali, i commissari, i professori li guarderanno così e vi daranno subito un bel cento. Allora, amantes, amentes, non conosco l'autore ma significa gli amanti sono pazzi. Questa è un'altra, molto interessante, molto importante, la insegnano anche nelle scuole di management, amicum secreto ad mone, palam lauda, cioè ammonisci l'amico in segreto o il sottoposto in segreto, ma lodalo in pubblico, questa è molto interessante, anche qui non conosco l'autore. Questa invece è di Seneca ed è una cosa che facciamo assolutamente tutti, quindi aliena vizia in oculis ad emus, ad ergo nostra sunt. Quindi abbiamo davanti agli occhi sempre i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro, e questo appunto era di Seneca. Un'altra molto interessante, amicus omnibus, amicus nemini, quindi amico di tutti, amico di nessuno. Un'altra, molto carina, molto breve, barba non facit filosofum, la barba non fa il filosofo. Chiudiamo con questa, che secondo me è bellissima. Beati monoculi in regione Cercorum. Quindi fortunata è la persona con un occhio solo nel paese dei ciechi. Bene, questo è tutto, spero che vi ho trovato il video interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, se ne volete altri mettete un pollice alto e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima.